L'IPLE organizza e promuove il corso di formazione tecnico-ambientale per lo sviluppo sostenibile. Superato un esame finale, sarà rilasciato il certificato di qualifica di tecnico-ambientale, figura professionale che avrà ampie conoscenze e competenze in materia ambientale, come il comportamento di un'azienda, emissioni in atmosfera, scarichi in acqua, riciclaggio, smaltimento rifiuti, contaminazione del suolo e molto altro. Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. È quindi gratuito, della durata di 500 ore, di cui 300 in aula e 200 previste come stagio in azienda. Il termine per iscriversi è il 14 aprile 2017, mentre la selezione in ingresso si svolgerà il 19 e il 20 aprile. Per maggiori informazioni si può consultare il sito di IPLE www.edili.com o scrivere a stefania.nepoti.com www.edili.com.br